Buongiorno a tutte e a tutte, è un piacere dare loro il benvenuto. Mi chiamo Lorenzo Cantoni, sono il direttore della Cattedra UNESCO dedicata a tecnologie digitali, turismo sostenibile e patrimonio mondiale dell'Usi e sono molto onorato di dare il benvenuto alla collega della Cattedra UNESCO dell'Università di Genova e a Fernando Aspeta che è il nostro main speaker quest'oggi. I'm moving, I'm switching to English, so the presentation will be done by Fernando's letter in Spanish with a consecutive translation in English. It's a great pleasure and an honor, I'm happy to see that many colleagues and friends and interested people decided to come even at this time, but the reason for organizing the event at this time is that Fernando has to catch a flight in a few hours and we managed thanks to this collaboration for having him here. He has already presented the topic with our students in the Master in International Tourism one hour ago and then now we have this public conversation, so it's a pleasure and an honor, thank you for coming here and people here not to listen to myself but to listen to Fernando and Adina, so Adina, if you want to briefly introduce what you do at the UNESCO Chair, at the University of Genova and then let's listen to the Machu Picchu. Good morning everybody, thank you for being here so numerous, it's so good, I'm very happy to do this joint effort to UNESCO Chair together of two different but very close countries, sharing the experience of presenting the work of Fernando Stete throughout almost four decades in Machu Picchu. Let me briefly introduce our Chair, it's called the Chair Anthropology of Health, we actually study everything which heals, so we study landscapes, archaeological sites, medicinal plants, healers, healing cultures, the togetherness of which generates health. So Machu Picchu is one of our focus because it's a World Heritage Site with a mixed characteristic. There are 1000 World Heritage Sites and only 38 are mixed, which means only 38 share nature and culture. And today are here with me Dr. Tania Re and Dr. Gianni Parotti, also belonging to a Chair. We're a conspicuous group of researchers who are everywhere in World Heritage Sites connected with this notion of generation of health throughout the combination of a harmonic natural network but also the response of human cultures to that. I would like to give a very, very special thank to the tour operator, Earth, which is here today represented by Bruno Gaddi, Isabella Pildolo and the entire team because it's also thanks to their will and their vision of also opening a sustainable tourism part of their activity. Also thanks to their vision we are here today with Fernando. I met Fernando in 1986. I was a very, very young student of architecture. I was trying to find plans for Ollantaytambo close to Machu Picchu. I wanted to do a thesis on Ollantaytambo because I thought that Machu Picchu was too big. And later on I discovered that actually much smaller than Ollantaytambo but nobody would help me. My Spanish was very poor. Nobody except a very kind guy with mustaches whose name I never knew. And he took me into the area of all the charts and he gave me the drawings of Ollantaytambo which I could copy and there my career would study. And 27 years later this man became my boss in Machu Picchu. And I actually started giving back what he had given to me 30 years before which is the comprehension of a technology, of a way of thinking, of a culture through drawing. And this is what Arshtera does. We don't just study the anthropology of health. We try to build and bridge and communicate good practices and to shape and give capacity building to young researchers on the site. Machu Picchu is so important because it connects also research and conservation in a way that is really remarkable. A very small country with very few means capable of generating its own conservation to a point to which the builders of today are doing exactly the same work of the builders of 500 years ago without interruption. Because they are their biological and ethnographical hairs. So I leave now the floor to Fernando. He's a very special person because he works since 40 years in a very sacred site which is conceived and considered sacred by inhabitants. And those who inhabit such a site in a way become the voice of the site. So for us, he is an anthropologist and a very renowned archaeologist. But for the Machu Picchu people, he's truly the older brother of the yacta, of the sacred sites. So welcome. Thank you all. I would like to say, express my gratitude to all the organizers of this event for allowing me to be in this prestigious university. We'll talk a little bit about what it means to manage a World Heritage Site. It all depends on the time you have to say that he could go on forever. As you know, Machu Picchu, as you know, has been declared World Heritage Site in 1983. It's in Peru. It's in Peru. In South America. South America. Close to Cusco. Close to Cusco. Sur de Peru. South and part of Peru. The only way to get there is through the train or by foot. And. I find the way to get there. It's moving from Ishtenia. You live in Cusco. You reach Ollantaytambo. To Machu Picchu. You reach Ollantaytambo. From Tren to Machu Picchu. The train to Machu Picchu. From this point. To Inca Trail. Там in three days. Three nights, four days you walked through Machu Picchu. Machu Picchu ha 37,302 hectare e più di più di 170,000 hectare di buffering zone abbiamo 60 siti archeologici di diverse magnitudini questo numero di siti è collegato da un network molto grande di 300 km per il Ministerio dell'Ambiente e del Parque Archeologico per il Ministerio dell'Ambiente per il Ministerio dell'Ambiente e del Ministerio dell'Ambiente per il Ministerio dell'Environmento è un santuario natural per noi, del Ministerio dell'Ambiente questo è un parque archeologico abbiamo due sistemi ecologici dentro del santuario troviamo 12 sistemi ecologici diversi nel Sanctuary dell'Ambiente che stanno in relazione a la altitud che sono legati a la altitudine che va da 2,600 metri fino a 5,000 metri in Perù hai 1,847 specie di veri in Machu Picchu hai 443 in Machu Picchu hai over 440 in Machu Picchu hai quasi il 18% del Perù e vi ho quasi il 7% del todo in Perù e il 2,330 specie di veri 2354 specie di veri 2,354 specie di veri e 423 specie di veri in foralimenti e 423 specie di veri All the variety of, they are so beautiful, he says. They are very, very small ones to very big ones. Pato de Torrentera is one of the objectives, one of the objectives to conserve special animals is related to this duck. But the most important one, the famous, the bear, a spectacle bear, by victim. And the spectacle bear lives throughout the sanctuary of Machu Picchu, the buffering zone, and another reservation, natural reserve. It would look, it would sound strange that we only count twelve individuals, twelve adults animals in the entire park, but you have to think these animals are territorial. It means they dominate a very wide area. And as soon as the monument... And as soon as the monument closes, they appear. They visit the monument as well, as you can see. But they don't respect our rules, and they go up on the walls. But they don't take selfies, right? But they don't take selfies, right? There are 443 species of birds. There are 443 species of birds. It's really beautiful. There are 40 cameras hidden in the forest to monitor the movement of wild species. There is a variety of wild animals you can think of in the high Amazon, in the Andean Amazon. We are now with the problem of climate change, and we have the retrocessing of the perpetual neves in the mountain of Salcantay, which is on the 6200 meters, a return of 56 meters in 10 years. Since ten years, we are monitoring the effects of climate change on glaciers, the most important of which is Salcantay, and we have been 6200 meters high, and we have evidence of a reduction of 56 meters. Meanwhile, there is a conservation of a very, very wide variety of wildlife. In the Inca Trail, there is a number of tourists who are dedicated essentially to this activity, nature watching, bird watching, animal watching. I'd like to show you what we mean by tracking or so to say adventure trail tourism. This is how the tourists arrive, how we organize them, we check them all. There are rules for that. We talk to those who will carry all the equipment, we give them recommendations, how to behave on the path. This is the point where the trail starts, approximately at 2500 meters. It goes up to 4000 meters. It goes up to 4000 meters. No hemos caminado ni media hora y ya tenemos estos grandes monumentos espectaculares. After less than half an hour walking, you immediately reach this spectacular Inca plan called Patayacta. Patayacta, que es un ejemplo de la arquitectura orgánica. which is amazing, an amazing example of organic architecture, as you can see. The planning of the urban area was designed after the movement of the river. Going up to the urban area in the higher part, and in the lower part you can appreciate the other cultural part. This is a different monument. And the picture is taken from a third monument, which means the monuments are always visually connected. This is the quality of the monument. This is the quality of the monument that we see in Atacutica. The architecture is very elaborated, as you can see, in this part, very geometric. And creating an elevated area on which you can build. This type of planning considerates the highest part is safer. Because it goes far away from floods. Well, you can actually see the quality of these monuments. This is the Cusichaca Valley. You see a canal, a water canal of Pre-Inca times here. And the monument you saw before, Patayacta, is right here. Look at an Inca trail. It's in the forest of clouds. So you see a lot of musk. The trail reaches 4,200 meters of altitude. And you reach many different monuments. Qui c'è un monumento, Sayajmarca. Questo è il Camino Inca. Questo è come l'inca trail connessi i siti. Qui c'è Machu Picchu. Qui c'è Machu Picchu. Qui c'è un monumento, Puyo Patamarca. Qui c'è Machu Picchu, troviamo due monumenti. Qui c'è Puyo Patamarca e Intipapa. Machu Picchu è già lì, ma vedete la montagna lì. Intipapa, un grande complesso agricola. Un grande complesso di agricoltura. Overlooking la scuola del sol. Questo è come il passaggio che crossa il monumento. Qui c'è Machu Picchu. Il fondo del valle. E la parte del valle. Che è molto pericoloso per la crescita dei riei. Che è davvero pericoloso perché delle bloce. Quiñayhuayna che era ancora scoperto nel 1942 solo scoperto in 1942 dal padre di archeologi peruani, Julio Tello che significa sempre fuori in Quechua, quiñayhuayna, sempre joven sempre, sempre joven la maniera come si opera i porteadori sono i che si occupano di portare i portare i portare i campi sono molto stretti perché non c'è ampi la campi area definita ma il portare è molto lungo la terrazza è molto piccola per acampare usiamo piccola terrazza per acampare non c'è abbastanza ma non c'è abbastanza il termine di Machu Picchu il termine di Machu Picchu che significa un centro un pobolato che dovrebbe essere un centro politico administrativo di questo grande spazio quando parliamo di Machu Picchu parliamo di Machu Picchu parliamo di un centro di plan di organizzare con le funzioni politiche administrativo e religiose le funzioni pubblica questo è il mapa dell'epoca Vinga questo è il mapa dell'epoca Vingham e questo è il mapa che utilizziamo il monumento o la jacca di Machu Picchu il monumento di Machu Picchu la jacca di Machu Picchu e i diversi cammini che ingresano per creare la presenza di questi cammini ha determinato la importanza del centro e il centro l'etimo il numero di titoli e pass che in Machu Picchu determano di un parola l'importanza dell'etimo l'etimo che il titolo ha funzione politiche e di gestione per derechos e legate ей che chiamo che lo chiamavano Camp David. Historicamente, la archeologia nord-americana ha identifichato Machu Picchu come un tipo di Camp David per gli Inca, una sorta di una villa remote, o come una villa palladiana, che non è il caso, non era mai stato un sito remote. Questo è il paese di Machu Picchu, che sta a più di 400 metri dal fondo del valle, 400 metri sul top di un valetico, che in il mondo andino, sono Deidades o Apus, che in l'Andean way of looking sono considerati di Dio, o Ancestors. La qualità di un cammino, che ha stato lavorato su una gran formazione rocosa solo con applicazione di instrumenti lìtico, cioè la percussione directa. Questo è la qualità di un trail che ha stato creato e lavorato da Inca bambini per costruire la stona con diverse stoni. Questo è il Machu Picchu, e questo è il passaggio che conduce a Machu Picchu. Si vedete un po' di vista, se guardate con l'attenzione, se guardate più vicino. Questo è il Machu Picchu, il Machu Picchu è in l'interno. Il Machu Picchu è in l'interno. Il Machu Picchu è in l'interno. Con l'interno della cornice, impatti, il Machu Picchu è andato. Ci sono dipinto di un po' di vista e in l'interno delle stoni. E ci sono le qualità del cammino, è ecco, i taludes del cammino, in questo luogna Questo è la qualità della stonemasoni della palla. Potete vedere che questi passi sono fratelli di più di 400 metri con una molto elaborata tecnologica. Questo è uno dei circuiti alternativi che abbiamo offerto. Questo è il famoso inca, puente inca, inca bridge. Questo è un altro cammino che va a fare la montagna Guaynapicciun. Vedete come spesso la palla è qui. Vedete come pronuncia la palla. 30 o 400 metri. Vedete come spesso la palla. Vedete come il set di stessi sono scopati da una sola stona di montagna. e questo è un dibujo ipotetico di come fu Machu Picchu quando erano inca. Questa è una ricostruzione di come fu Machu Picchu in inca times. Puede avere cobertura o tetti con molta pendiente. e anche le palla sono scopati. Perché le palla sono scopati di 2.200 milimetri all'anno. Perché le palla sono di più di 2.200 milimetri all'anno. Questo significa che hai molto di palla. che si è stato in relazione con un grande sistema di drenaggio di luci. Questo sistema si sta per un sistema di luci molto elaborato. Per i luci di luci. con il proposito di fare la migliorare la visita turistica. Con un obiettivo di gestire meglio i luci e luci. Che non sia una concentrazione solamente in il monumento. E per evitare la concentrazione di persone sui monumenti. che abbiamo definito i circuiti. Abbiamo definito questi circuiti. Il circuito A che è il più largo. Il primo, che è il redone, che è il più lungo. E poi ci sono più corti. Ci sono più corti. In linea azul. Che puoi vedere in blu, in blu line. E lo più importante sono i circuiti alterni. La montagna di Machu Picchu. Diretti verso la montagna di Machu Picchu. O anche il Inca Trail. Diretti verso l'Intipunco. Questo è diretti verso l'Inca Bridge. E questo è diretti verso l'Huana Picchu. Questa è una vista da l'arco di la montagna di Machu Picchu. Questa è una vista da l'arco di Machu Picchu. Questa è una vista da l'arco di montagna di Machu Picchu. Questa è circa un'arco di due ore. Questa è una capacità di cargare di 400 visitanti. Questa è un mancina di cargare più di 400 visitanti. Questa è cert-questa. Questa è un mancina di più di fuori di Secretari. A questo fuori di Fuori, che possono essere circa 400 visitanti. Questa è un mancina di 160 visitanti. Questa è un mancina di più di attraversa. Questa è una il mancina di più di 1,000 turi. in questi quattro tralati. Questa è un'immagine di Intipuncu che ha avuto il tralati Inca. Questa è una forma diversa di guardare Machu Picchu di Puttukusi e Guannapish. Potete vedere, come vedete in Puttukusi in Puttukusi e Guannapish. Un'area più agricoltura e un'area più urbana separata dalla linea rosa. Un'area più archeologica denominata Yachtapata da Yachtapata potete vedere Machu Picchu in un'area più archeologica. perché voglio vedere qual è stato il desafio al hombre andino e alla naturalezza di fare un'area più utile. E vorrei poter vedere l'incredibile rinforzamento dei ricercatori che hanno costruito un cedro si io ero un ingegniero civile e mi chiede di fare qualcosa, non lo faria e mi chiede a construir lì, non lo faria una immagine della epoca di Bingham, 1911 questo è quello che Bingham ha visto, e anche il Incaso dei ricordi... come si stavano un tema, che è parte della contribuzione al conoscimento di Machu Picchu che è una domanda che tutti noi facciamo mi vorrei share con te un'a risposta a una domanda che tutti gli hanno chiesto come si è stato construito? questo è un luogo di teocchi come caos granitico. Questo è quello che conosciamo come limestone caos. A la llegada dei Incas, questo è stato cuberto per un gran bosque. Quando i Incas arrivarono, questa era tutta l'era era cubuta da foresti. Lo que i Incas hanno fatto è cominciare a costruire un muro e una terrazza. Primero cominciarono a construire muri e terrazza. Generando una molto grande stessa. Quando la colina è già protegita. Quando i entrambi sono completamente protegi. Lo importante in questo processo di construzione è per a construire questo primo muro. Il materiale viene dall'alba all'alba 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 all'alba. Tutto il materiale di decanteo è all'alba 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 all'alba. Un'altra cosa straordinaria è che il materiale di decanteo è all'alba 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 all'alba. Quindi è una tecnica 100% ecologica. Ha zero waste. E' un'altra cosa straordinaria è la genialità del costruzione del sito. All'alba all'alba è un progetto cheva all'alba 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 all'alba. Questo è un esquema di come si è costruito. Questo è un esquema di come si è costruito al basamento locoso. Prima di arrivare il roccio sul basso della monta. Si è costruito la palla direttamente sulla palla della monta. Si è costruito con lo che non è usato per le palla. Al final si è costruito una capa di suelo agrícola. Al final si è costruito un suelo agrícola. E per ultimo si è costruito gli ambienti. Qui si può evidenciare i muri di sostenimento. Puoi vedere l'interno della superficie e la superficie delle palla e delle strutture. Perché hanno una forma diversa. Siegono diversi formi e diversi dimensioni delle palla. Le dice che il materiale viene da l'arrivo a l'arrivo. I was telling you, il materiale va da l'arrivo a l'arrivo. Quindi vedete qui alcuni stocchi che hanno stato secchiato. Il secondo è in processo. Vedete qui la forma del bloc. Il bloc è stato tracciato. Perché? Perché se vedete qui c'è la forma. Qui si ritiriamo la cuina. Questo va a coincidere con questa cuina. oltre le due elementi sono riunite. Come spiei come piecchi. Questo si fa piedra a piedra. Questo è stato fatto stona per stona. Poi poi il che vedete qui. Il primo che vedete in cima sarà il primo che sarà qui. E quando sono i blocchi in situ, All the stones are on their sides, then you start working on the surface. Liquids were brought, that is to say waters, were brought from 700 meters away. There is also a system of drainage of rainy waters that goes to a dry barrel. As I was telling you, walls of terraces were built first. You see here with the big stones. Later on, you build next to them. They are not connected, they are just one next to the other. You can see the same here. The lower part sustains the terrace. And you see here a little wall for the drainage and the upper part is the building. Here is an example on how stability was given to the building. You first carve these parts on the rock, where you seat the first line of the stones. And later on, you build the rest of the structure. Part of the archaeological research has to do with conservation and restoration. This is a photo of Hiram Bingham in 1911. And here is 2009, where we found the block, the missing block. You see the block missing in Bingham picture. After the works, after the excavations, we found the block. I was, as I was telling you, you can see here pictures of how the material which is not used for the walls goes into the fillings. You see them in the excavation. This is my work. Very quickly I will explain what we do. As Fernando told you, we literally identify stone by stone. We give an ID card to every single stone. How it's cut, how it's filled, how it's got. And then when we have all these codes, we generate colors to identify elements and to study how the entire structure came into being. While we were doing, studying this area on the construction sequence, we actually found that this part, this lower part, which you see in dark purple, was literally built later on, on top of this very, very light purple area, which was the original ending part of the building. The so-called Casa del Inca and the so-called Temple of the Sun were originally meant to be visible for everybody, and there was a path here. But what happened was that a collapse of the structures that we identify through a geological line generated the peril of the destruction of the two buildings. So what the Inca did was alter entirely the design and built two very big terraces with a lower path. You can see this in this picture. This is the original terrace. This is the very beautiful finishing of the Casa del Inca in Templo del Sol. So originally, they were meant to be seen, but then when they start collapsing, the Inca built all this part to counteract the pressure of the fall, and they do a second lower path. The drainage systems are 100% restored and used. So the investigation and the identification of elements líticos, which, in this case, these blocks that are here, had to be part of this environment. Through investigation and excavations, we find all the missing parts of the buildings that fell. This is part of the research of Machu Picchu, the findings of metallurgy, micro-cultures, ceramics. Y aquí tenemos un hallazgo importantísimo, que es un observatorio de la época Inca, observatorio astronómico. A very relevant finding in astronomical, as far as astronomy, Inca astronomy, El Mirador. Estudios sobre las lagunas en Machu Picchu. We also do underwater archaeology on sacred lagoons. So there are many offerings underneath. Contemporary, like the technology. This is how it was. This is the problems that we had in the past. Everybody wants to be the first. There was a lot of concentration, a lot of going everywhere. Colas interminables. Unbearable cues and no space. Problemas de erosión de pisos. A lot of problems of soil erosion, as you can see. This is the solution. It's a contemporary material which actually allows the protection of the soil. and where the grass actually grows. So you don't see it here. But there is an impact on the stairways. Which are literally eroded by the shoes. Quartz on limestone disintegrates the stone. So the solution is wooden stairways and these grids. We opened a new exit. We asked UNESCO permission to do this. And we demonstrated we generated zero impact. But the real problem is the water of the rains. That's the problem we have. Water of. But we use the inter-running system. We used to have fires which we don't have anymore. So if you have waters, you have vegetation. And so we clean up the vegetation. We do a completely manual Inca technology. Restoration of every single centimeter of the monument. Research with findings. You see Fernando here on the field. Growth of visitors. One million four hundred ninety two thousand. It's growing eleven percent. And to finish. We would like to show you the authenticity and integrity of the monument. through this binary sequence of pictures taken by Bingham. And same picture taken one hundred years later by Jose Bastante, archaeologist and professional photographer. What you see, what you can see is the white color of livestock. The bio-deterioration of humanity due to climate change. Accelerates the bio-deterioration, the growth of lichens, of moss. The visual impact. When Bingham arrived in the buildings, you had big trees growing. Now everything is cleared. This is the boy who led Bingham to much picture. Here's a finding of National Geographic, a picture. It says July 1902. Once years before the arrival of Bingham. How local communities use the data center. And this is us. The responsables. The responsables. Muy amable. Muchísimas gracias. Thank you very, very much. Thank you very much for this very comprehensive presentation. I think the issue of over tourism has been kind of mentioned. As I mentioned before, we're so happy to be able to accommodate Fernando Bastante's presentation in one class in this public event. Still he has to catch a flight. And in this room, in 12 minutes, there will be another class. So I would suggest that we have just a follow-up, a brief comment about how they see the future of tourism. So what's next? How can it be still improved? I think the most important thing we did to manage tourism is distribute decongestionate tourism. If you go up on this mountain, for instance, takes one hour at least. A normal person. You, one hour. We, three hours. A few hours. If we have 400 on every mountain. The best strategy is to distribute. Distribute and give the experience of a network, which is what Machu Picchu was. It was a network. It was not just one single site. So you offer a network. The advantage of this is having a set of written rules. We work very much on having rules that give a positive growth of tourism. So we are going to, we have sequenced tourism throughout timetables and so you don't have congested tourism anymore because you, you have your own entrance at a certain time. And so all these people, they're not all together. Never. So you have just tiny groups of people throughout the entire day. And also we gave more information on the fact that actually the visit in the afternoon is better because you have a better view of the monument when the light comes from, from north and northwest. Which is actually this view. Here you have the light from the west. That is to say, it's the afternoon. But it's a work in progress. Because as you have seen, tourism is growing 11%. And the rest of Peru is growing only 4%. So our, our tourism is growing much more than the tourism in the country. It's a big challenge that we're going to help finding a solution. Yeah. So, so thank you. So in summary, the three main initiatives. So distributing along space. So re-addressing or re-orienting the flows. Distributing along time. So having different time slots in which people can access. And improving the knowledge. So training people or making sure they have a better understanding. Communicate a network. Yeah. Not one site. The one site. It's the idea of Hiram Dinka. Which is all very nice. But it's obsolete. It's a parquet. And it's not what Dinka wanted. Good. So thank you again for joining me. Thank you very much. 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 Grazie.